Hanno seduto e derubato un anziano, ma sono stati scoperti e arrestati dai carabinieri di Sansepolcro. Si tratta di tre cittadini di origine romena, due donne e un uomo, nulla facenti, tutti d'età compresa tra i 22 e i 29 anni, provenienti dalla provincia di Perugia. Il fatto è accaduto vicino a un centro commerciale Biturgenze. Mentre l'uomo è restato in attesa fuori dai negozi in una lussosa automobile di grande cilindrata, Le due donne hanno individuato un ultraottantenne, seducendolo e facendogli credere di essere interessati ad avere un rapporto sessuale con lui. L'uomo ha ceduto alle loro lusinghe, si è appartato nella sua autovettura con una di esse, ma la ragazza ne ha approfittato per prendergli il portafoglio, tirando fuori il denaro contante e due tessere Bancomat, oltre al numero del PIN annotato su un biglietto. L'anziano si è accorto dell'inganno, ma ormai era troppo tardi. Poco dopo, allo sportello Bancomat più vicino, le due ragazze hanno prelevato 500 euro dal suo conto corrente. I carabinieri di Sansepolcro sono giunti sul luogo avvisati da alcuni cittadini. Quando hanno visto che maneggiavano delle tessere Bancomat, le hanno filmate col cellulare, arrivando a riprendere il momento in cui prelevavano altro denaro. Nello stesso tempo altri carabinieri erano intervenuti dirigendosi sul terzo uomo, che le aspettava in macchina, notate in occasione di altri episodi simili. Tutti e tre dovranno rispondere in concorso tra loro di furto e in debito utilizzo di carte di credito.